I carabinieri della stazione di Sommatino, in esecuzione di un'ordinanza del GIP Valentina Balbo, hanno arrestato un 25enne di Riesi per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe offeso e picchiato la compagna e avuto comportamenti aggressivi anche nei confronti dei propri familiari. In più si sarebbe scagliato contro gli arredi di casa distruggendoli. Un clima continuo di violenza è culminato il 29 luglio scorso con minacce e ingiuri anche nei confronti dei carabinieri. Quel giorno infatti, mentre la donna in gravidanza era stata trasportata al pronto soccorso a seguito di una lite con il 25enne, il giovane improvvisamente era arrivato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e colpendo le porte d'ingresso avrebbe preteso di vedere la compagna. Contro quest'ultimo avrebbe anche gridato ti ammazzo. A quel punto erano intervenuti i carabinieri. La furia dell'uomo non si era fermata nemmeno davanti agli uomini dell'arma ai quali avrebbe gridato vi spacco la testa arrestatemi e domani ti vengo a prendere. Vi ammazzo, vi prendo a testate. Il 25enne era stato dunque ammanettato e condotto in caserma. I carabinieri nel corso delle indagini hanno ricostruito i vari episodi di violenza che la compagna dell'uomo e familiari di quest'ultimo avevano subito nel tempo. Per il 25enne è dunque stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.